Sì, vorrei spiegare che il motivo di questa richiesta è derivato dal fatto che, come sapete, le tempistiche per la pubblicazione dei bandi, per l'affidamento delle palestre scolastiche per la prossima stagione stanno per scadere. Parliamo di una proposta che abbiamo trattato in Commissione, la trattiamo da un anno e mezzo. Ieri ho scritto a tutti i comuni della Commissione Sport per anticipare questa richiesta, proprio per evitare che fosse una sorpresa. Tutti lo sapevano e mi dispiace che non ho ricevuto domande da parte di alcuno per valutare altre modifiche da portare al testo. Quindi, sinceramente, a questo punto non capisco quale sia invece il motivo per non votarla, visto che, come ripeto, l'urgenza è oggettiva ed è il tempo che passa. Vogliamo evitare quello che è accaduto l'anno scorso, ovvero tanti bandi presentati nei municipi con criteri diversi l'uno dall'altro. La città è una, i municipi sono 15 ma devono rispettare un unico regolamento che vogliamo mettere a disposizione dei municipi il prima possibile. Siamo già in grande ritardo, visto che l'ultimo emendamento è stato depositato e il parere è favorevole, per quanto mi riguarda credo che dovremmo venire il prima possibile. Grazie. Perfetto.